Rispondo perché ho letto così, ho visto quello che ha postato, ma insomma intanto è il compito di un sindaco, lui forse non era abituato a un sindaco presente al municipio, qui abbiamo avuto dieci anni di assenza assoluta sia nel municipio ma anche nel contatto con i cittadini. L'impegno che mi sono preso, la maggioranza intanto voglio rispondere a lui che è abituato a questo tipo di amministrazione dove tutti facevano e non si sa che cosa, un coordinamento è importante che ci sia in un comune, in questo caso deve essere per forza il sindaco per il compito che è stato dato dai cittadini al sindaco, oggi il sindaco viene eletto insieme a tutti i suoi collaboratori, ci mancherebbe altro ma direttamente dal popolo, è un sindaco che fino a quando la maggioranza amministra fino alla fine del mandato. Io, è l'impegno che ho preso, è quello che sto facendo insieme ai miei collaboratori, guarda caso, due assessori hanno riconsegnato le deleghe, sia Nunzio Amatucci che Lucidi Alessandra, la prima cosa che ho chiesto perché l'ho invitati comunque a riflettere, forse oggi si sono pentiti per tutto quello che stiamo facendo e che abbiamo in programma di fare. Sulla maggioranza, insomma, Nunzio dico di aspettare con ansia ma che si togliesse quest'ansia perché arriveremo alla fine del mandato nel 2024 con una maggioranza che tiene, i numeri ce l'ha, quindi hai voglia di crisi, insomma la crisi si crea nel momento in cui il sindaco non ha più i voti in Consiglio Comunale. Noi ce l'abbiamo, il gruppo è unito, è molto compatto, mi sono vicini, approfitto per ringraziare sia la Giunta, la nuova Giunta, insomma, perché sono stati sostituiti e i consiglieri che collaborano come se fossero, perché sono consiglieri delegati. Nei prossimi giorni o a breve, nelle prossime settimane ci sarà comunque la sostituzione di due assessori attuali con due consiglieri che come da programma e da come avevamo concordato insieme, compreso quel documento che abbiamo fatto insieme a tutti i 12 candidati consiglieri alle elezioni, che qualora ci fosse stato un consigliere che non condivideva comunque il percorso o il percorso amministrativo della maggioranza, l'impegno sottoscritto è, ripeto, sottoscritto. Io quello che dico ai cittadini, per chi mi ascolta, insomma fate attenzione, perché insomma andare dietro a persone che sottoscrivono un contratto, io sono uno che dove la stretta di mano era più di un contratto, ha sottoscritto che comunque avrebbe abbandonato non solo la Bancio Ranzmas sarebbe dimesso per permettere a quei quattro consiglieri che sono a casa e che hanno contribuito come tutti noi alle elezioni di questa lista per entrare in consiglio comunale. Quindi si sarebbe aspettato le dimissioni da parte della Luci e del Diamatucci? Assolutamente, è un documento scritto, io tra l'altro, lo ripeto, sono pure per il vincolo di mandato, lo dico ma non in riferimento a un'amministrazione comunale come può essere il comune di San De Giro, lo dico dalle elezioni provinciali in sua, alla regione e anche al governo, le cose andrebbero, io non devo dirlo, io sono un amministratore, un sindaco di un comune di provincia, ma insomma chi prende un impegno in un partito dovrebbe continuare, se sei minoranza è lì che ti devi battere, perché se hai scelto un partito e un cittadino ti ha votato, non solo alla persona ma soprattutto al partito di appartenenza, non puoi tu che sei minoranza fare un altro partito, dovresti combattere dentro quel partito per far valere le tue ragioni, per esempio che possono essere anche minoranza, questa è la democrazia, secondo me il vincolo di mandato dovrebbe essere istituito, perché sono proprio le basi di una democrazia, in questo caso non si rispetta la maggioranza, è una minoranza che non rispetta la maggioranza.